Il 5G come opportunità di sviluppo digitale per i servizi alla persona e per la crescita economica dell'Italia. Ne ha parlato un convegno alla Lewis Business School, centrato in particolare sullo sviluppo della capitale grazie alla nuova tecnologia. Per Laura Di Raimondo, direttore a Stel, con l'avvento del 5G per il Paese si aprono opportunità infinite in termini di sviluppo economico, inclusione sociale e capacità di rendere nuovi servizi alla cittadinanza. Serve investire energie in termini collaborativi per sempre di più avere la capacità di sviluppare una cittadinanza matura al tempo del digitale che possa usupruire di tutti quelli che sono i servizi nuovi che riguardano la pubblica amministrazione, la salute, l'agricoltura, l'industria e tutto quello che è la vita del vivere al tempo del digitale che riguarda le città e il nostro essere all'interno del Paese. Ma il convegno si è concentrato sull'importanza del 5G per Roma. Paolo Boccarelli, direttore di Lewis Business School, parla di una infrastruttura fondamentale. La città di Roma è in una fase in cui deve ripensare i propri modelli di sviluppo e la sostenibilità, la capacità di mettere a disposizione un'infrastruttura tecnologica digitale moderna e all'avanguardia sono elementi centrali per attrarre capitali e investimenti oltre che per rendere le imprese e le istituzioni del territorio più competitive e più efficaci sui mercati. È l'opportunità di rendere effettivamente smart una città con la persona al centro, dice Filippo Tortoriello, presidente Unindustria, e l'aspetto economico è rilevante. L'infrastruttura per rendere questa città in grado di erogare queste qualità è il 5G. Quindi è importante che ci si metta intorno a un tavolo comune, regione, capacità tecniche per individuare i percorsi certi, efficaci e far sì che la città sia interamente coperta in modo tale che la qualità del servizio sia accessibile a tutti gli stakeholder pubblici e privati. Le ricadute da un punto di vista economico potenzialmente sono estremamente interessanti. Si parla di un 5% del PIL a livello nazionale, Roma rappresenta il 9% del PIL, quindi stiamo parlando di circa 30 miliardi.